Mi raccomando, non copiate, non consultate libri e usate soltanto il foglio che avete davanti. E adesso vi do lettura del tema di italiano. È permesso? È permesso? Che c'è? Che succede? C'è un gravissimo... Aspetti un attimo, tolgo questo, metta qui così. C'è un gravissimo guai all'impianto di riscaldamento. Dov'è il riscaldamento qui? Ah, ecco dove è il riscaldamento. Eccolo qua dove è il riscaldamento. Ma se siamo in estate. Appunto, cosa fa un termosifone qui d'estate che qui fa caldo? Questo bisogna togliere, questo va via. E dove fa? Vai in Norvegia. A fare. A fare le vacanze, no? Va a sciare. Adesso le faccio vedere subito io, così lei guarda cosa le faccio vedere. Tenga questo, un attimo. Sì, tengo questo. Così vedrà, lei si rende conto che cosa... Ecco. Mi dia. Sì, ma scusi, proprio adesso deve fare questo lavoro? E per forza, se no come faccio a sapere cosa... Cosa che? Niente. Cosa? Eh, c'è mica bisogno di andare avanti. Come faccio a sapere cosa? Punto. Mica sempre bisogna spiegare, se no poi la gente capisce. Tenga questo, scusi. Sì. E da questo qui? No, te, no, no, no. Non questo, da questa parte. Da questa parte. No, questo, lascia andare questo, questo cos'è, scusi? È il tema. Con questo caldo un tema. Ma il tema per il concorso. Ah, io adesso per togliere il termosifone secondo lei dovrei fare un concorso. Ma no, per le ragazze. Allora il concorso lo riparano le ragazze. No, il termosifone lo riparo io, va bene? E io leggo il tema. No, il tema lo leggo io e lei ripara il termosifone. D'accordo, ma stia calmo per favore. Ma certo, sono calmissimo io. Non sputi, stia calmo. Ma si calmi lei. Parliamo con calma. Sì. Lei cosa fa? Il professore, no? Dove abita? La Fia Guerrazzi. Dove passa il 23? No, il 19. Beh, potrebbe anche passare il 23. Sì, volendo. No, ma io non voglio. Allora, tenga questo, vado a leggere il termosifone delle ragazze e io riparo il tema. E faccia presto. Tema. Una passeggiata per Milano. Sensazioni, osservazioni e stati d'animo. E? E stati d'animo. Ah. Ha finito? Sì. Anch'io. Ecco. Qui siamo a posto, qui abbiamo giustato. Senta, io questa cosa non l'ho capita, me la spieghi? Sì, gliela spiego subito. Ecco, lei intanto metta questa qui, che lì, questa meglio. Perché lei può insegnare anche così, capisce? Il termosifone va cambiato, non può stare qui perché va in Norvegia. Poi comunque vi spiego tutto quando torno dal mare. Sì. 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 Che fai? Non scrivi? Grazie a tutti.